Grazie per l'esperienza di parlare di multidisciplinarità, però una cosa particolare che ha oltre la multidisciplinarità, guardate quanti loghi compaiono su questa locandina. Questo che cosa significa? Che è un progetto che non è che ci siamo inventati all'università, cioè quando io dicevo che lo short master non è unidirezionale ma va in due sensi, è perché questa idea è nata dal dialogo con le persone che lavorano nel mondo reale, cioè non è un prodotto tutto accademico. Non solo, ma è nato proprio con il dialogo tra chi produce e non a caso c'è il logo di FP che è l'associazione fratturiale di Fuglia e chi utilizza questo prodotto e c'è il logo della Federazione Italiana Cogli. Ma non solo, se guardate ci sono i loghi di associazioni culturali che si occupano di cultura dell'olio e dell'olio al territorio, di start-up che sono nate nella nostra facoltà, c'è questa start-up Oliverta che produce olio salutistico, c'è il nostro spin-off, Made in Food, c'è l'associazione Città dell'Olio, ci sono le accademie più prestigiose come l'Accademia Nazionale dell'Olio, dei Giorgofi, l'Accademia delle Scienze e quindi questo mi fa capire che era un'esigenza che abbiamo seguito in molti. ma siccome è partita da un dialogo che abbiamo fatto io e Stefano Caroli, cosa Michele d'Agostino, io vorrei invitare entrambi che aspettano che Michele contemporaneamente non solo a portare il saluto delle proprie associazioni ma a portare il sentimento che ha spinto tutti noi a mettersi insieme in questo progetto. Passo da Stefano che ha creato il cortocircuito dell'incontro. Grazie, buonasera a tutti. Diciamo che quando mi riguarda come Presidente dei Frantoiani di Puglia e nonché come produttore sentivo molto questa mancanza di collegamenti tra il produttore vero dell'olio che è il Frantoiano e gli utilizzatori, anche perché negli ultimi anni la Puglia viene afflusa da tanti turisti e spesso volentieri anche turisti di un spessore altro. E ogni estate capitavano sempre tanti turisti che in un muro o nell'altro, quando poi mi presentavano, che rappresentavano i Frantoiani, mi facevano, ma mi vuole dire perché noi siamo in Puglia, ovunque ci muoviamo vediamo un albero di olivo, poi capita nei ristoranti che spesso in Puglia ci troviamo di fronte a uri non italiani ma bensì spagnoli come sapete l'olio spagnolo anche a distanza si senta proveniente. Qui volevano sapere da me qual'era la causa e il motivo che insomma un po' dirà che come produttore, come rappresentante della categoria, insomma questa è un vendito. E se non l'anno scorso, che è cambiato, però durante l'estate era un bar, mentre le persone avevano chiamate, parlavano di olivo, un veneto, un prodotto di olivo, una solita canzone che chiama Maria Lissa. Dico, ci vogliamo vedere per un incontro che chiamo al Presidente dei Cuochi di Martina e così è nato il nostro incontro, che ringrazio il Presidente dei Cuochi, Maria Lissa, come lo vedi, l'Università, per questo tavolo che abbiamo costituito e l'inizio di questo shortmas, ma io vi auguro che questo sia l'inizio veramente, noi abbiamo messo le pasi per acculturare, anche noi, produttori, abbiamo a imparare qualcosa ancora. Siamo, come frantoiano, a disposizione anche di eventuali richieste da parte degli chef per pegare una mece, quindi da parte nostra veramente un ringraziamento a tutti i collaboratori, poi grazie a questi bambini che hanno partecipato a questo concorso a Macadono e per la visita. Grazie. Allora, buonasera, io intanto devo ringraziare la Dottoressa Columbeo e l'Associazione Pratoiali per questa grande opportunità che ci hanno dati a noi operatori del settore perché noi trasformiamo, noi siamo coloro che lo portano in tavola, che cercano di dargli l'identità che merita. E proprio l'altro giorno ti chiede, ho risposto, adesso ti hai detto su Facebook, a un docente il quale diceva, e lei mi invitava a questo, ci raccontiamo l'effetto dell'importante dalla scuola a quello che è l'olio. È vero, è una fase scientifica, è una situazione di tutta cosa, secondo me, scienziata di materia, che parliamo della riflessa dell'olio sotto il profilo scientifico. Ma che cosa avviene in quanto producina? Hai ragione. Lo sappiamo solo noi. Hai ragione. E in questo torna il discorso dello scambio di esperienze che porterà a una crescita reciproca. infatti dicevo, spesso e volentieri portare avanti di poco il calore dell'olio vuol dire distruggere. O spesso e volentieri servirlo caldo, su una portata dove invece andava servito freddo, abbiamo fatto un danno enorme al nostro palazzo. Ma non solo, spesso e volentieri questo danno ci trasmette al nostro corpo, che tanto può essere di beneficio, che tanto può essere di danno. E quindi dobbiamo essere molto accorti. Noi puoi dire che negli ultimi anni, grazie alla conoscenza, alla sapienza, a questi approcci straordinari con l'università e con tante altre realtà che c'è ancora nel territorio, stiamo gestendo la cucina salutistica, che vedete che in questo caso parte da un'università. Perché l'olio è una medicina. È una medicina di salute. Parliamo dell'olio Evo, parliamo dell'olio, adesso lo chiamiamo Evo perché è un trend di esprimersi. Ma è giusto che sia ritenuto uno dei prodotti straordinari della Puglia, che va raccontato nel mondo. Io spesso ho fatto anche grandi realtà all'estero, perché io rappresento con lì c'è spesso gli istituti, come ultimamente lui è rientrato un nostro collega da un'altra grossa realtà, dove si è stato? In Colombia. Il problema, sapete quello è che quando arriviamo lì, il nostro governo non si preoccupa di farci arrivare l'olio extravergente di Liva. Io sono andato di notte a comprare a Taipei l'olio con Liva e ho trovato, grazie a Dio, un'azienda di indiesa. Vi va avanti. Ti dico anche no. Adesso non è che voglia fare pubblicità. La c'era da Taipei alle 12 di notte in un ipermercato dove sono dovuto andare a cercare di prodotti italiani, perché dovevo fare cucina italiana e non avevo alternativa. Ho dovuto utilizzare i prodotti vegetali di quella nazione che non hanno a che fare con le nostre zucchine. Lì c'era una zucchina gialla dove c'erano all'interno tutti i segni e una corteccia esterna legnosa che per cucinare, per capire come la dovevo trasformare, per dirvi che si faccia promozione del nostro prodotto, ma del reale nostro prodotto, non delle mistificazioni di quanto si fa il suo cuore. Quindi dipendiamo il nostro oro giallo perché è veramente uno. Grazie a tutti.